Sono Chef Vianneo da Mestre e oggi vi ospito nella mia cucina per una puntata speciale di Mestre Chef Grazie Chef, perciò per parlare? Sì Chef Perciò in parla a vedrò due Sciaffoni, anzi due Sceffoni Sceffoni Perciò ridere? No Chef Chi vincerà questo test potrà entrare nella cucina del mio ristorante, siete pronti? Sì Chef Perciò rispondere? Sì Chef Sì, giusto, giusto Primo indizio, è un elemento di cilinza nella cucina L'olio? No Farina? No Il sale? No L'avocado? Avocado? Ma ti sei appena tornato al Messico e ti ha trattenuto e servendo gana Squish Avocado Vi do un altro indizio, cerco di aiutarvi È un prodotto tipico del nostro territorio Sofrenza Vicentina? No Prosecco di Valdobbiadene? No È radicchio di chioggia? No L'avocado? Ancora questo avocado? Eh, ma Tiggerino ti sei tardivo come radicchio Tardivo come radicchio, Chef Ah, ecco Vai, l'ultimo indizio Questo si è facile Altra è mettere Vim No, acqua Bue Acqua Uva Acqua Mai Mai È il mais ma sicuramente, mai Mai è sicuramente Guarda, te daria in testa con una racchetta da tennis Da tennis? No, no, me ne basta una, fidate, ti passo tanto mai Scusi, Chef Comunque per me è un no, ragazzi È un no Come o no? No Qual è il tuo prodotto di eccellenza? Acqua Ma dai ce lo dica Acqua Ma dai, non faccia prezioso Acqua Se non ora che ti dico? Acqua L'acqua Eh Ma scusi, Chef Perché l'acqua è un prodotto tipico del territorio? Perché in Veneto ci sono più di 2.000 sorgenti d'acqua Acqua Sì, ma perché 3 lettere? Acqua Acqua 3 lettere Acqua Ah no, adesso è 4 Ah no, adesso è 5, scusa 4, 5, 6, 7, 8 Che ho preghi più, eh? Femmo l'asta del pantacalcio Ora mi piensa di aver 4 mando per scapparvi a Schiappone E dopo farmi l'applauso da sto Cuidissette